1917 prima guerra mondiale inizia la battaglia di caporetto 1970 salvador allende eletto presidente del cile 1929 wall street giovedì nero inizia la crisi economica commenta il fatto del giorno francesco carrassi direttore della nazione servizio militare chi lo vuol fare alla possibilità di fare il militare professionista chi non lo condivide postazione a casa